Il mondo dello sport ha preso coscienza e anche molto forte di quanto è avvenuto per l'emergenza coronavirus. Già da una settimana la Lega e la Federazione Italiana a giocacalcio avevano sospeso il massimo campionato fino ad aprile. Sospesi anche tutti i principali campionati d'Europa, dall'Inghilterra alla Spagna, in ultimo la Germania. Anche la Formula 1 decide di fermarsi ancora prima di cominciare, seppur in ritardo, con il Gran Premio d'Australia annullato e le altre prove, quella del Bahrain, Vietnam, Shanghai, o rinviate o annullate. Stessa cosa anche per il golf, il basket americano e i principali campionati universitari degli States. Manca soltanto all'appello alle Olimpiadi di Tokyo, anche se il CIO continua a stentare ottimismo, mettendo in evidenza che la manifestazione deve essere fatta. Ne è convinta anche Tokyo, ma con il passare dei giorni la situazione si dimostra sempre più ingarbugliata e cercare di aspettare almeno un anno non sarebbe poi una tragedia. E' tutto per questa edizione straordinaria di Speciale News Web 24. Come sempre le notizie e i testi telegiornali li troverete sulle nostre pagine Facebook e su YouTube. Prossimo untamento con la nostra informazione, questa sera con la seconda edizione di Weekend Sabato alle 19. a più tardi.